Il gruppo folk Saco e Dolus nasce nel 2014, conta circa 60 iscritti, prende il suo nome caratteristico dalla Domus Dejanas Sacois Dolus è costituito principalmente da giovani che già da subito si sono impegnati nella ricerca, nello studio soprattutto dell'abito tradizionale è del ballo caratteristico, quindi alla Unedas come si ballava nei tempi antichi le nostre ricerche più o meno si datano da metà fine ottocento e primissimi del novecento ricercando nel tempo anche tramite fonti orali, fonti scritte, lasciati di persone anziane in questo percorso abbiamo studiato quindi anche il ballo caratteristico che era tipicamente in cerchio o comunque riproponiamo anche quando partecipiamo dalle varie manifestazioni fuori riproponiamo i balli caratteristici quindi anche delle festività, un esempio di questo su Balle Ogai e quant'altro accompagnati principalmente dallo strumento caratteristico della Unedas e da Susurito da Bastori grazie grazie